Ciao a tutti, oggi faccio un piccolo video perché una mia amica mi ha chiesto come si facevano quei tappi decorati che si vedono anche online e sono questi, io li avevo fatti tempo fa per fare degli abbellimenti per gli album vedete sono questi, io avevo comprato questi tappi qua al supermercato e sono, citiamo tappi a corona e questi sono diametro 26 color oro a me sarebbero piaciuti trovare color argento ma non li ho trovati e quindi li ho colorati io vedete questo l'ho colorato di argento per schiacciarli alcuni avevano schiacciati col martello poi alcuni ho visto che si schiacciavano benissimo anche con la bt shot e quindi facevo molto prima e me ne sono preparati di diverse vedete? diversi tappi schiacciati già pronti ora vediamo come fare a decorarlo io avevo queste faccine anche vedete queste ed erano di una carta scrap poi questo invece l'ho fatto con un washi tape e adesso ve ne faccio vedere uno allora io ho preso un pezzo di cartoncino mi sono messa il washi tape ho messo le figure che mi piacciono poi con un punch tondo questo è circa 2,5 cm e va benissimo per fare questo mi scelgo la parte che mi piace il disegno e faccio ora prendo la colla e incollo il disegno attaccato bene poi una volta che ho attaccato bene il disegno gli voglio dare questo effetto lucido e un po' bombato io in certi ho usato il mod podge tridimensionale e adesso non ne ho più e ho usato il glossy assen e glielo metto sopra mi raccomando dobbiamo cercare di non fare delle bolle perché altrimenti si vede cerchiamo di stenderlo bene e togliere tutte le bolle ecco fatto ora lasciamo ad asciugare e finito di asciugare viene in questa maniera qua ora io rimetto questo lo faccio senza questi qui per abbellimenti di album però volendo si possono fare anche dei ciondoli o addirittura avevo fatto un portachiavi ma in un portachiavi l'avevo messo doppio in questo modo così adesso io ho due disegni l'avevo messo doppio attaccato e poi gli avevo fatto il bucamino e avevo messo il portachiavi con tutte le perline per fare il buco io prendo un pezzo di questi erano quelli che erano nei pacchi un punteruolo e mi segno guarda in questo questa parte qua in alto qui mi faccio il buco per mettere poi per mettere poi il gancino vedete si vede il bucanino facciamolo più un po' più largo così guardate lo riuscite a vedere vedete lì e qui verrà messo dopo il suo gancino si può fare un ciondolo o si può fare un orecchino però io in questo caso ho colorato solo il sopra ma si può colorare anche il dietro io invece ho colorato solo il davanti perché io di solito li uso per mettere anche centrale dei fiori e così via e abbellimenti e scrap scusate mi ero dimenticata io per colorare i tappi ho usato questo che è il colore argento poi c'è questo che era il rosa l'azzurro e poi avevo anche il bianco che adesso non lo ritrovo io ho provato anche con i colori acrilici ma non sono venuti proprio bene bene quindi vi consiglio di usare le bombolette spray e dare almeno due mani bene con questo vi saluto spero di essere stata chiara anche per la mia amica per qualche dubbio che avete a riguardo scrivetemi nel box in fondo vi risponderò al più presto e ciao al prossimo video